Insomma, dedicavo veramente pochissimo tempo. Magari quando mi capitava il caso, mi studiavo l'istituto anche quando lavoravo, però le ore dedicate allo studio, quello sistematico, proprio da concorso di magistratura, era ridotto all'osso. Però sono state proprio, e qui lo voglio dire, perché è facile seguire un corso quando puoi studiare 10-12 ore al giorno, tranquillo, ti fai tutti i manuali che vuoi, ma quando il tempo è veramente ridotto, devi veramente dividere il tuo tempo, lì diventano fondamentali le lezioni, i manuali che hai a disposizione e che ti vengono consigliati. Perché io per esempio ricordo che quando ho aperto il gazzoni mi sono spaventata, ho detto ma io non ho capito mai niente di civile, e invece è stato proprio il gazzoni che mi ha consentito di studiare in maniera recente, di colmare molte lacune che io avevo e che non sapevo di avere.